Il mio sport è passione del calcio, lo pratico fin da bambino quando avevo cinque anni e non mi sono mai fermato fino ad oggi. Lo faccio perché per me lo sport è passione, è vita, per me lo sport è gioia e dolori e nonostante ho avuto anche un brutto infortunio al ginocchio sono riuscito a rientrare e caparvi come prima a ritornare in campo. Un giocatore in generale deve avere un'intelligenza tattica, rapidità, coordinazione nei movimenti e poi tutto viene molto più semplice. La mia partita di calcio, che ricordo di più, l'ho giocata proprio domenica scorsa, semifinale di playoff, abbiamo vinto al centoventesimo minuto dei tempi supplementari, è stata un'emozione grandissima. I miei obiettivi futuri comunque sono quelli di continuare a giocare finché posso e poi magari avere la possibilità di allenare iniziate dai piccoli e poi magari chi lo sa anche squadre team ma molto più importanti.